Ma buon dia a tutti amici di Doppia Frizione, oggi siamo al raduno del TTT Gentleman's Driver Siamo qui a Ressona con la Tina e come potete vedere c'è un bordello di gente Ora andiamo a registrarci, ci sono dei data devastanti e dopo faremo anche un giro per il parcheggio Allora abbiamo appena fatto colazione, adesso andiamo a fare un po' di foto, un po' di video E vi faccio vedere anche cosa mi hanno dato nella busta di iscrizione Allora dentro la borsa c'era un bel adesivo da attaccare con il numero 94 Un modellino di Lancia Nuova Barilla Ovviamente il De Prian con il Roadbook Io di De Prian ne ho tipo 700.000 Poi una penna, il bello Legend E le auto più belle per la tua opinione Un modellino di Lancia Nuova Barilla lo stai di un teatro i suoni i suoni i suoni i suoni i suoni i suoni e i suoni i suoni Siamo immoltarati anche dall'elicottero! Ragazzi, appena è atterrato un elicottero qua vicino, quindi è sicuramente nostro, è bellissimo questa cosa! Grazie a tutti! Grazie a tutti! La festa agricola è arrivata anche a Ressona! Grazie a tutti! Grazie a tutti! La festa più vecchia del 1927! Grazie a tutti! Buon percorso alla Flaminia targata Padova! Quindi abbiamo adesso la 320 Ferrari, la 360 Modena è nata a 2.400! Prego! In questa direzione, buona partenza, buon giro, ci vediamo più tardi! Perfetto! Perfetto! abbiamo il numero 12, adesso siamo in ordine! Siamo a numero 15, una Fiat 124 Spy Siamo a numero 19 Ah, ecco il nome del motore, lo sentiamo Mini Cooper del 2003 Andiamo avanti con la 2 Alla azione I tronometristi vengono qua fino a 30 Per dare via 5 Suono Flecchia in partenza Lancia Cugia Cooper Rosso davanti 22 Siamo alla mia Abbiamo l'equipaggio numero 23 Ah, ecco, quindi il papà che segue il figlio Che è appena partito Prego, partenza l'equipaggio 24 Siamo a 25 Partenza 27 Costumi Altra Questa è appena partita 31 Vediamo se c'è il saltone da qualche parte Con una Fiat Partire insieme all'equipaggio che è appena partito Barbavara Con questa In Buon Madò 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 Siamo al numero 34 Siamo al numero 34 Come mi dite la osella dove è finita Perché me l'ha dato come numero 34 Numero 35 Adesso è il numero 35 Vediamo 36 36 Catasso P Il numero 43 Adesso è il numero 30 alle mie spalle numero 40 sempre a fisi classiche abbiamo un'alba duetto la vedete qui davanti bianca la propria sella saltorello dovremmo avere un porsche da partire è già andato senza il via 152 prego ecco la propria sella La cura dei dettagli 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 Grazie per la visione!